ciao ragazzi. io sono Riccardo. bentornati nel mio canale youtube e nel mio garage. oggi vi parlerò, a grande richiesta, della rivettatrice per boccole filettate della TAC Life. boccole filettate o rivetti filettati. l'ho utilizzata nel mio ultimo progettino. quindi il supporto per la smerigliatrice doppia da banco, che comunque l'ho abbassato, seguendo i vostri consigli. anche se in prospettiva sembrava più alto di quanto fosse realmente. però comunque l'ho abbassata. anzi, ho arredato in parte anche la parete alle mie spalle. detto questo, quindi torniamo a noi. parliamo della rivettatrice per le boccole filettate. come funziona, come si utilizza, per quali casi è consigliato, eccetera. prima vi faccio un finto unboxing, perché già la confezione è aperta. questa l'ho comprata almeno un anno e mezzo, due anni fa. quindi non è un vero e proprio unboxing. però nella confezione c'è ancora tutto. quindi vi faccio vedere quello che troverete nella confezione e poi appunto come si utilizza. cominciamo. allora, la rivettatrice arriva all'interno di una scatola, nella quale è raffigurata l'immagine che rappresenta l'utensile. all'interno di questa scatola, troviamo una valigetta semi rigida, con il logo TAC Life, abbastanza dura. e all'interno, appunto, troviamo la garanzia e manuale di istruzioni, l'utensile, degli inserti, punte di ricambio filettate, che vanno da m3 ad m12. quindi m3, m4, m5, m6, m8, m10 ed m12. una punta è già montata. più delle boccole. ne manca qualcuna, perché l'ho utilizzata. anzi a proposito, poi ho comprato delle boccole di ricambio su amazon, perché comunque quelle in dotazione sono pochissime. soprattutto delle misure grandi. e queste si adattano perfettamente. sono di buona qualità. vi lascerò ovviamente il link, per poter comprare sia le boccole adatte, senza commettere errori, che è la rivettatrice. allora, vediamo come funziona. questa è una rivettatrice apparentemente simile a quella per i rivetti normali, la classica rivettatrice. però sulla parte frontale, ha una sporgenza, quindi un perno filettato, che ruota, se io estendo o ritraggo la parte posteriore, in questo modo. questo perché poi ci servirà a poter regolare il posizionamento della rivettatrice, durante l'utilizzo. nella parte frontale, va inserita la boccola, che poi a sua volta andrà inserita all'interno del foro. per poter inserire la boccola nella parte filettata, dobbiamo lavorare con la rivettatrice, con le leve così aperte. quindi si inserisce la boccola, avvitandola. dopodiché, stringendo le due leve, si contrarrà e si espanderà, rimanendo bloccata all'interno del metallo. è consigliato utilizzarla per spessori non oltre i 3 mm. però parliamo un attimino del campo in cui può essere impiegata. solitamente si utilizza su superfici nelle quali non è possibile realizzare una filettatura. per esempio lamiere sottili, che non reggerebbero al continuo avvitamento e svitamento di eventuali bulloni. quindi se dobbiamo parlare di materiali come l'alluminio, comunque che siano morbidi, un eventuale utilizzo continuo del bullone potrebbe danneggiare la filettatura. quindi se sono superfici sottili o materiali teneri, tipo plastica, eccetera... e non abbiamo alternativa. dobbiamo per forza utilizzare questo tipo di sistema. quindi inserire una boccola, che ci dia la possibilità di avere una filettatura metallica buona, della lunghezza giusta, per poter accogliere il bullone. ad esempio, nel carrello portotensili, che vi ho già recensito, della green cut, ci sono queste boccole, che servono a fissare il maniglione. vi farò vedere, vi lascerò un'inquadratura per farvi vedere di cosa sto parlando. oppure, nel caso in cui ci sia una struttura, come ad esempio il progetto che ho realizzato, che adesso è fissata a muro, se io volessi assolutamente mettere un mullone, per poter sostenere qualcosa, un gancio, eccetera, o come mi è capitato di utilizzarla per una struttura costruita con dei tubi metallici, da almeno 5 o 6 centimetri, non avrei potuto fare diversamente, se non fare un foro, inserire la boccola e sfruttare la filettatura. altrimenti avrei dovuto forare tutto il tubo per tutta la sua lunghezza, inserire un mullone lunghissimo e poi bloccarlo dalla parte opposta. quindi questo tipo di lavoro ci rende la vita molto più facile, perché ci consente, semplicemente con un foro della misura adeguata, di inserire la boccola e avere direttamente il foro filettato. allora vediamo come funziona. quindi cosa fa il rivetto, la boccola filettata, una volta inserita nel perno della parte frontale. ho preparato un pezzo di metallo, praticando già un foro, per farvi vedere il funzionamento e ho scelto utilizzare una boccola per filetti m5. al momento è montata quella m6, così vi faccio vedere pure la sostituzione. e allora questa è la chiave che troviamo in dotazione. in questo modo, inserendola così, possiamo svitare e rimuovere. ora non era molto stretto, quindi l'ho svitato con le mani, però è possibile utilizzare anche questa parte per svitare eventualmente la parte frontale. quindi si svita. ovviamente si possono usare le normali chiavi inglesi. dopodiché si toglie la parte che è inserita proprio all'estremità, che però in questo modo non gira, proprio perché è trattenuto da questo colletto a molla. quindi bisogna abbassarlo, tirando verso fuori anche l'inserto da svitare. dopodiché in questo modo si estrae e si inserisce quello nuovo. ovviamente sul tappo poi dei contenitori è riportato il tipo di filetto che c'è all'interno. quindi procedura inversa. si avvita, così si abbassa e si avvita quello nuovo. dopodiché si rilascia. può capitare che non si sollevi, quindi facciamo un minimo movimento in modo che vada nella sua sede. dopodiché reinseriamo la parte frontale, avvitandolo e poi usiamo la parte estrema. questa ovviamente per tutte le misure va fatto lo stesso procedimento. questa è la boccola per filetto m5, che misura 6 mm e mezzo. quindi dobbiamo praticare un foro di un millimetro più grande, come quello che ho praticato in questo pezzo di scatolato. in realtà non c'è una tabella per il proprio. comunque io non l'ho mai utilizzata, neanche cercata, ma semplicemente faccio in modo che la boccola entri e non si muova. quindi stia perfettamente alloggiata nella sua sede. dopodiché abbiamo due modi per poterlo utilizzare. o avvitiamo la boccola direttamente sulla parte finale. come abbiamo detto poco fa, dobbiamo allargare le due leve. dopodiché avvitarla. questa parte estrema serve pure a stabilire eventualmente l'escursione della vite che noi vogliamo dare. quindi in base al tipo di materiale, possiamo decidere pure che tipo di escursione dare. io finora l'ho utilizzata con l'escursione massima, quindi non ho mai avuto necessità di regolare questo tipo di valore. allora possiamo fare o in questo modo, come abbiamo appena visto, oppure possiamo semplicemente posizionare tutte le boccole nella struttura che stiamo costruendo. dopodiché, siccome la parte frontale ruota all'escursione e alla ritrazione di questa asta posteriore, come vedete, ruota man mano che io estendo o ritraggo, possiamo anche utilizzarla in questo modo. metterla così, stringere e si avvita. allora vi faccio vedere il suo funzionamento all'interno del metallo. quindi stringo, come vedete si espande e già è arrivato. quando la rivettatrice diventa dura, non consente più di stringere le due leve, dobbiamo fermarci. non è un rivetto a strappo, per il quale è necessario fare molta forza. semplicemente quando noi sentiamo resistenza, quindi si frena la corsa delle due leve, possiamo fermarci, perché già il rivetto è posizionato correttamente. stendendola, dato che ruota in senso anti-orario, ci permette di scollegare il perno, quindi svitarlo dall'interno del rivetto, in questo modo. e possiamo toglierlo, perché appunto ruotando, si svita dal suo interno. ad esempio, ipotizziamo che io debba mettere un rivetto in questa parte. oltre a non avere la possibilità di forarlo da parte a parte, né di inserire un bullone nella parte posteriore, per poter avvitare quello che mi serve, perché c'è il muro e perché uno scatolato, utilizzando questo tipo di rivettatrice, in questo caso, con la rivettatrice in questo modo, potrei tirare la parte posteriore e liberarla. inoltre, il sistema che ci permette di far ruotare il perno, ha diversi tipi di funzionamento. se il numero di corse non dovesse bastare, ipoteticamente, quindi noi arriviamo con le leve a stringere fino ad un certo punto, estendiamo la parte posteriore, si svita, ma non del tutto. quindi ci ritroviamo nella situazione di poco fa, di non poterlo svitare. in questo caso, la parte posteriore va avvitata, ma in senso anti-orario, così la parte frontale rimane immobile, mentre noi la avvitiamo. dopodichè, possiamo ripetere l'operazione e liberarlo. quindi, così ci permette di avvitarlo, semplicemente spingendo in avanti. così si avvita, così si svita. come vedete, la parte posteriore si avvita con una velocità rapidissima, perché un solo giro lo fa avanzare di tantissimo. quindi ci rende il lavoro molto rapido. allora, abbiamo visto come si mette la boccola filettata. adesso vediamo pure come si rimuove. quindi con l'utilizzo di un trapano o un avvitatore, utilizzando una punta che abbia il diametro esatto della boccola. o verifichiamo posizionando la parte posteriore direttamente sulla boccola. quindi vediamo che è mezzo millimetro più piccolo. oppure, se conosciamo già il diametro, prendiamo la misura esatta. per utilizzare l'avvitatore, vi consiglio di non mettere la frizione al massimo, perché l'avvitatore, quando si fora il metallo, riceve un contraccolpo se la punta dovesse impuntarsi, quindi bloccarsi. mettiamo la frizione quasi al massimo, che ci consenta di bloccare il mandrino con la mano, opponendo una resistenza che non sia elevata e poi eventualmente regolandola man mano. quindi posso iniziare a lavorare con la punta, cercando di rimuovere la parte superiore. perfetto. in questo modo, la boccola è stata perfettamente rimossa. quindi è possibile liberare con un trapano, la superficie sulla quale c'è la boccola inserita. considerate leggermente il metallo che rischia di rovinarsi, perché siccome la parte che trattiene il rivetto bloccato viene rimossa, lo stesso inizierà a ruotare e bisogna inclinare la punta dell'avvitatore, in modo che continui a scavare. quindi questo sicuramente è un rischio che si possa rovinare la superficie, però la liberiamo comunque dal rivetto potenzialmente spanato, che richiede la sostituzione. e in teoria potremmo, dovremmo vedere anche l'aggiunzione di due pezzi fra di loro. solo che se si tratta di spessori sottili, quindi un millimetro, un millimetro e mezzo, allora riusciamo a unire due superfici fra di loro. non nasce con questo scopo, però nel caso in cui comunque due superfici siano interessate, perché già unite fra di loro, perché fanno parte della stessa struttura e noi dobbiamo forarle, allora nel caso, ripeto, di un lamierino, è possibile utilizzarlo. perché la parte che viene interessata dal rivetto, è questa parte posteriore che non si espande. il funzionamento di questo tipo di rivetto è a contrazione. quindi si contrae e le due parti si avvicinano, stringendo il pezzo all'interno. quindi su questo tipo di metallo, che è da 2 millimetri, diventando 4 mm affiancato, sarebbe impossibile, perché la parte del rivetto zigrinata, ha la stessa misura. quindi 4 mm. quindi non riuscirebbe a contrarsi. i rivetti più grandi, che comunque sono raramente utilizzati, hanno leggermente più di superficie. saranno circa 6 mm. però, ripeto, lo scopo non è quello di unire due pezzi fra di loro. e allora ragazzi, io penso di aver detto praticamente tutto quello che può interessare ad un hobbista, per l'utilizzo di questa rivettatrice per boccole filettate. come abbiamo visto, è davvero comodissima, perché basta spingere questa leva in avanti, per avvitarlo sulla boccola. quindi ovviamente con le leve aperte, si spinge e si avvita. si stringe. ovviamente non andate oltre un certo sforzo, perché dovete sentire che la sua corsa si fermi. è un movimento quasi spugnoso, lo definirei, perché si sente l'espansione, anzi la contrazione del rivetto. quando finisce la sua corsa, allora non dobbiamo più stringere. possiamo fare leggermente più di forza. comunque già il rivetto si è ristretto, quindi non è necessario andare oltre. per rimuoverlo, come abbiamo visto, con le leve ancora un po' aperte, basta tirare indietro. se questo non fosse sufficiente, come vedete, in questo modo si avvita e si può continuare. allo stesso modo, nel caso in cui sia tutta estesa e non si sia avvitata a sufficienza, basta girare in questo modo e poi premere per avvitare tutto. è una rivettatrice comoda. ripeto che permette di inserire in strutture dove non è possibile praticare la filettatura, perché sono troppo sottili. sfido chiunque a realizzare con la filettatrice, una filettatura su una superficie che sia o troppo sottile, quindi un millimetro, perché non avrebbe presa, o su superfici morbidi come plastica o altri materiali comunque, che non permettano di essere filettati. con questa si risolve il problema. vi ricordo che vi lascerò il link per poter comprare sia la rivettatrice che io sto utilizzando già dagli inizi del 2019 e con la quale mi sto trovando benissimo, che ovviamente le boccole corrette per poterle utilizzare con questa. mi raccomando anche quando tirate, di non fare eccessiva forza, oltre che perché è inutile, ma perché si può danneggiare la filettatura della parte frontale. finora non mi ha dato alcun problema. si è scolorita leggermente la parte frontale, ma mi ha permesso di lavorare perfettamente, facendo la giusta forza per far contrarre il rivetto. detto questo, spero di esservi stato utile. spero di avervi detto tutto. se avete dubbi o domande, scrivete giù nei commenti. io cercherò di aiutarvi, dove è possibile. non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile. cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo per i prossimi video. ciao da Riccardo e a presto.